Ecco, quindi io andrei con la lezione, poi se ci sono dei problemi magari Michele ci aiuta a un altro del genere. Quindi se siete d'accordo per ogni problema mandatemi un messaggio, io inizierei la lezione di oggi. E conterei se possibile in questa giornata di finire un po' lo stato liquido e quelle cose che riguardano gli acidi e le basi che comunque bisogna fare in un corso di chimica. In questo modo dalla prossima lezione, che sarà la prossima settimana, potremmo iniziare la termodinamica. Ho già caricato le diapositive della termodinamica, vi invito sempre a controllare l'ultima versione perché ogni tanto mi capita di cambiare qualcosa, però al momento sono già caricate. Per cui torniamo a dove eravamo rimasti l'altra volta. Se non ricordo male vi avevo fatto una domanda, vedo che stanno arrivando altre persone, vi avevo fatto una domanda, non so se avete provato a rispondere o semplicemente lo sapevate già. Allora, a che temperatura bolle? Avevamo ricordato che cos'è l'evaporazione e l'ebollizione. Avevo chiesto, ma secondo voi a che temperatura bolle l'acqua all'interno di un recipiente armeticamente chiuso? Avevamo una pentola a pressione senza valvola, tanto per intenderci. Ecco, proviamo a rispondere a questa domanda ricordando queste cose. Allora, l'evaporazione, come vedete da questa figura, ed era stato ricordato la volta precedente, per evaporazione si intende il passaggio di stato delle molecole che stanno sulla superficie di un liquido nella fase gassosa, che viene chiamato vapore. Un gas, quando è in presenza del suo liquido, viene chiamato vapore. Se invece esiste solo la fase gassosa, allora si parla di gas, questo è storico insomma. Mentre se il gas è in presenza contemporanea della sua fase liquida, allora si parla di vapore. Vabbè, tanto per intenderci. Quindi, se voi prendete un recipiente, ok? Quindi sto parlando dell'evaporazione. Prendiamo un recipiente, ci mettiamo dentro un liquido, facciamo conto l'acqua. Ora, chiudiamo il recipiente, chiudiamo il recipiente in modo che non ci sia alcuna fuga di gas, alcuna fuga di vapore. Che cosa succederà? Succederà che le molecole superficiali, che sono quelle, vi ho detto, che evaporano, cioè che possono passare nella fase vapore, adesso vedremo il perché, cominceranno a saltare nella fase vapore, a passare dal liquido al gas, fino a che punto questo processo di passaggio di molecole superficiali nella fase gassosa, che sta sopra al liquido, continua in modo indefinito? Ovviamente no, perché il recipiente è chiuso. Se fosse aperto, continuerebbe in modo indefinito. E infatti, se voi avete un bicchier d'acqua e lo lasciate aperto sul tavolo, il giorno dopo di acqua ce ne sarà molta di meno. Ma quello è aperto, la pressione esterna è quella atmosferica, rimane costante. Invece, se voi chiudete il recipiente, che cosa succede? Succede che a un certo punto l'evaporazione si ferma, ossia il numero di molecole che restano nella fase vapore, cioè nella fase gassosa, rimane costante. E naturalmente lo stesso vale per le molecole che restano nella fase acquosa. Quindi si arriva a un momento dove la concentrazione, ripeto, il numero di molecole che sono passate nella fase vapore, non aumenta più. Si dice che il sistema ha raggiunto l'equilibrio. Vi invito a sottolineare questa parola che abbiamo già trovato per i gas ideali. Con i gas ideali vi avevo detto che noi possiamo definire il sistema macroscopico, PVT, di un gas ideale, solo all'equilibrio, solo quando il sistema non cambia più nel tempo. Qui è la stessa cosa. Si dice che quando le concentrazioni delle molecole in fase vapore e delle molecole nella fase liquida rimane costante, non cambia più, il sistema ha raggiunto l'equilibrio. Benissimo. Ora, le molecole che stanno nella fase gassosa sono un gas e quindi eserciteranno una pressione, come abbiamo detto la volta scorsa, per i gas ideali, per tutti i gas naturalmente. Quindi la pressione sarà la stessa sia contro le pareti, sia contro la superficie del liquido, sia contro il coperchio, diciamo, quello che tiene chiuso il contenitore. La pressione è uguale, uniforme, lungo tutte le direzioni. Questa è una delle caratteristiche del gas quando raggiunge l'equilibrio. Ebbene, la pressione che il vapore esercita sulla superficie del liquido, ma naturalmente anche contro le pareti, in questa situazione di equilibrio, viene chiamata tensione di vapore. Quindi quando sentite parlare di tensione di vapore non si tratta altro che della pressione esercitata dal vapore in equilibrio con il suo liquido in un recipiente ermeticamente chiuso. Se il recipiente non fosse chiuso, l'equilibrio non si raggiunge mai. Perché il gas se ne va, ovviamente, mi sembra banale. Un'altra nota, l'equilibrio in realtà dal punto di vista microscopico, cioè dal punto di vista degli atomi e delle molecole, diciamo, il gas può essere fatto di atomi, comunque i liquidi sono quasi tutti molecolari, le molecole che vanno in fase vapore e raggiungono l'equilibrio. In realtà il sistema si trova dal punto di vista microscopico in un equilibrio dinamico. Cioè che cosa succede? Succede che a un certo punto il numero di molecole che dalla fase liquida passano, dalla superficie liquida passano alla fase vapore, nell'unità di tempo diventa uguale al numero di molecole che dalla fase vapore passano alla fase liquida, naturalmente sempre sulla superficie. Quando le due velocità, che qui sono indicate con le frecce bianche, rosse e nere, le nere vuol dire che le particelle tornano nel liquido, le rosse vuol dire che vanno nella fase vapore, quando queste velocità, questi scambi sono esattamente bilanciati, quindi il numero che va nella fase vapore è esattamente uguale al numero che va nella fase liquida nell'unità di tempo, si dice che si raggiunge l'equilibrio, che chiameremo a livello microscopico equilibrio dinamico, perché vedete è un processo dinamico, è un processo dinamico. Dal punto di vista macroscopico, naturalmente nessuno va a vedere le molecole e quello che si osserva è che 1. la quantità di liquido rimane costante, 2. la tensione di vapore sopra il liquido rimane costante. In quel caso siamo all'equilibrio. Però adesso vi ho dato la definizione di tensione di vapore che trovate anche nella diapositiva sopra. Benissimo. Ora vediamo di rispondere alla domanda, e ricordiamo che cos'è l'ebollizione. L'ebollizione invece che cos'è? E' un processo dove se la pressione esterna è costante, quindi il recipiente non è chiuso, non è chiuso, che cosa succede? Se io riscaldo il sistema, se io cedo energia sotto forma di calore al liquido, arriverà un punto dove il passaggio in fase vapore non interessa solo la superficie del liquido, ma interessa tutto il volume del liquido. Quindi capiterà che anche all'interno del liquido ci saranno insiemi di molecole che passano repentinamente alla fase vapore e si formano queste bolle. Naturalmente sono bolle sferiche, dicevamo nell'ultima lezione, perché esiste la tensione, come si dice, la viscosità del liquido, la tensione superficiale del liquido fa sì che la sfera sia la configurazione più a minore energia, ma non entriamo in questi dettagli. all'interno di queste bolle cosa c'è? Semplicemente del gas, delle molecole in fase gassosa, in fase vapore, che però adesso si sono create all'interno del volume del liquido. Il recipiente, ripeto, è aperto. Le bolle poi, siccome sono più leggere, la densità è più leggera del liquido, risalgono la superficie e poi il gas se ne va nell'atmosfera e avete il fenomeno dell'ebollizione. Ripeto, la pressione esterna è costante, la pressione esterna è quella magari atmosferica e il recipiente è aperto. Questa è semplicemente l'ebollizione. Benissimo, a questo punto dovremmo essere in grado di rispondere alla domanda che vi ho fatto. Torniamo al... al... scusate, devo mettere le diapositive a pagina singola, eccola qua. Torniamo al sistema chiuso. Torniamo al sistema chiuso. Allora, alla domanda, benissimo, può bollire l'acqua all'interno di un sistema chiuso? può bollire un liquido all'interno di un sistema chiuso? Guardo se ci sono... Non so se avete risposto, non sto qui a chiedervi di tentare di rispondere. Ripeto, forse lo sapete già, la risposta è no. In un recipiente chiuso l'acqua non bolle mai. In una pentola a pressione, finché la valvola di scarico, che è la valvola di sicurezza, in modo tale per non far scoppiare la pentola, naturalmente, ma se quella valvola fosse ermeticamente chiusa e la pentola a pressione sufficientemente solida da resistere all'aumento di pressione, quindi non scoppia, all'interno di quella pentola l'acqua non bollirà mai. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice. Continuando a riscaldare, quindi io sto cedendo calore continuamente al mio sistema, quindi questo contenitore immaginate che si trovi sopra una sorgente di calore. è tutto chiuso. Che cosa succederà? Succederà che le molecole superficiali riceveranno in continuazione sempre più energia. Quindi ci sarà un passaggio mano a mano che io aumento la temperatura, il sistema non si troverà più all'equilibrio. E allora per raggiungere un nuovo equilibrio ci sarà un numero di molecole che dalla superficie passerà, un numero maggiore di molecole che dalla superficie passerà alla fase vapore. Perché? Però saranno sempre solo le molecole superficiali. Perché le molecole superficiali sono quelle che possono passare alla fase vapore e non quelle che stanno dentro al liquido quando il recipiente è chiuso? Per un motivo molto semplice. perché le forze che devono vincere le molecole superficiali per passare nella fase vapore sono molto minori di quelle che devono vincere le molecole che si trovano all'interno del liquido. Le molecole superficiali devono solo vincere la pressione del gas che gli sta sopra, cioè la tensione di vapore. ed eventualmente qualche forza attrattiva delle molecole superficiali. Mentre le molecole che stanno all'interno del liquido, nel volume del liquido, devono vincere non solo un numero maggiore di forze intermolecolari attrattive che possono trattenere le molecole nel liquido, ma devono vincere due tipi di pressione. La pressione esercitata dal gas, quella naturalmente c'è sempre, più la pressione della colonna d'acqua che le sovrasta, perché non si trovano più in superficie. Quelle in superficie non hanno nessuna colonna d'acqua che le sovrasta, mentre quelle che si trovano nel volume della soluzione hanno una certa quantità d'acqua liquida che gli sta sopra e quella esercita è una pressione e quindi devono avere sufficiente energia per vincere anche quella pressione. Quindi, le molecole che stanno nel liquido, nel volume del liquido, hanno bisogno di più energia di quelle superficiali per passare in fase vapore. Ora, quando il recipiente è chiuso, le molecole che stanno nel volume non potranno mai raggiungere quell'energia per passare in fase vapore, per quale motivo? È molto semplice. La tensione di vapore è in continuo aumento, perché io sto scaldando, il sistema non raggiunge mai l'equilibrio e quindi la tensione di vapore del gas che sta sopra al liquido è in continuo aumento, perché il riscaldamento fa sì che un numero nell'unità di tempo il numero di molecole che passa nella fase vapore sarà sempre maggiore del numero di molecole che eventualmente tornano nella fase liquida. Proprio perché io sto scaldando, quindi sto cedendo energia alle molecole superficiali. Quindi quelle avranno, potranno, hanno tutta l'energia disponibile per passare nella fase vapore. ma passando nella fase vapore che vuol dire che la pressione che si esercita sul liquido sarà in continuo aumento. Quindi le molecole che stanno all'interno difficilmente non raggiungeranno mai l'energia sufficiente per vincere la pressione esterna esercitata dal vapore più la pressione esercitata dalla colonna d'acqua. Insomma, per farla breve, solamente in un sistema del genere solamente le molecole superficiali potranno avere energia sufficiente per passare nella fase vapore. Naturalmente quell'energia sufficiente gli viene data dal calore. Che cosa significa? Significa che conclusione in un sistema chiuso riscaldato la tensione di vapore è in continuo aumento. Quindi non si raggiungerà mai la condizione dell'ebollizione. Perché? Perché nel caso dell'ebollizione le molecole che stanno nel volume possono passare in fase vapore perché la pressione esterna è costante. Quindi riscaldando si arriverà a un punto dove le molecole che stanno nel volume avranno sufficiente energia per passare in fase vapore. Ma se il recipiente è chiuso questo non succederà mai. Le molecole che stanno nel volume non potranno mai avere sufficiente energia per passare in fase vapore. Quindi l'ebollizione non avverrà mai. In un recipiente chiuso un liquido non bolle mai. Quello che succede è che ci sarà una continua evaporazione fino a che la fase liquida scomparirà. Ovviamente se ci mettete gli spaghetti gli spaghetti cuociono lo stesso perché gli spaghetti mica cuociono perché l'acqua bolle. Gli spaghetti cuociono perché l'acqua aumenta la temperatura. Quindi anzi in un recipiente chiuso la temperatura può aumentare molto di più che in un recipiente aperto per cui gli spaghetti cuoceranno sicuramente prima. Ecco spiegato l'arcano del perché vediamo se ci sono commenti no del 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 fatto che alla domanda se l'acqua bolle in un recipiente chiuso la risposta è no non bolle per quelli che non lo sapevano adesso ci siamo arrivati quindi abbiamo parlato di ebollizione e di evaporazione un cenno ai diagrammi di stato questi sono importanti il concetto di diagramma di stato è importante per i fisici soprattutto per quelli che faranno fisica della materia per cui introduciamo questo concetto intanto vado indietro per vedere sì abbiamo fatto tutto il il concetto di diagramma di stato è collegato agli argomenti sulle transizioni di fase che abbiamo fatto la volta scorsa cioè i passaggi di stato fra i vari stati della materia ora io ho detto che cos'è la tensione di vapore bene allora cos'è un diagramma di stato un diagramma di stato non è altro che un diagramma dove nella sua diciamo formulazione più semplice è un diagramma bidimensionale dove si riporta la pressione e la temperatura lungo gli assi x e y questo che vedete nella figura è il diagramma di stato dell'acqua forse avrei dovuto scriverglielo il diagramma di stato dell'acqua è uno dei più complessi è uno dei più interessanti l'acqua abbiamo già capito che è uno dei liquidi più strani che esistano in natura anche se noi per noi siamo abituati all'acqua però in realtà dal punto di vista chimico fisico abbiamo già visto che l'acqua ha delle proprietà veramente uniche vi descrivo brevemente come fatto che cosa si riporta lungo queste curve i punti che stanno su queste curve che cosa rappresentano allora la pressione che vedete elencata che vedete sull'asse y è nient'altro che la tensione di vapore i punti che stanno lungo le curve le curve in verde rosso e blu sono i punti di equilibrio cioè quel famoso equilibrio che vi ho fatto vedere quando vi ho spiegato la tensione di vapore eccolo qua cioè a dire prendete il ramo blu di questo diagramma vedete che si va da un punto che viene chiamato punto triplo poi c'è un ramo di curva che arriva fino a un punto critico di cui adesso vi dico che cos'è che cosa sono i punti che stanno su questo su questo ramo di curva sono nient'altro che i punti che corrispondono all'equilibrio fra la fase liquida e la fase vapore quindi i valori di pressione che io leggo lungo questo ramo di curva in blu non sono altro che i valori della tensione di vapore quando il sistema è caratterizzato da questa coppia di valori di pressione e di temperatura è in equilibrio esiste un equilibrio fra la fase liquida e la fase vapore ok quindi i rami di queste curve i rami di queste curve rappresentano punti di equilibrio il ramo blu rappresenta l'equilibrio fra il vapore l'acqua liquida e l'acqua gassosa la curva tratteggiata che è quella che riguarda il diagramma del stato dell'acqua lo riprenderemo nella prossima diapositiva l'altra l'altra curva verde è invece una curva che riguarda un liquido qualsiasi mentre nel caso dell'acqua avete quella specie diretta tratteggiata ebbene tutti i punti che stanno su quella retta rappresentano un equilibrio fra il liquido e la fase solida la curva in rosso invece rappresenta l'equilibrio fra la fase solida il ghiaccio per esempio e il vapore quando il sistema è caratterizzato dalla coppia di punti che individuano un punto qui dalla coppia di coordinate pt che individuano un punto sulla sulla curva rossa vuol dire che il vostro sistema si trova in un equilibrio dove avete la presenza del solido e del gas ma non del liquido invece sul ramo tratteggiato avete la presenza simultanea della fase solida e della fase liquida ma non del gas stessa cosa dicasi sulla parte blu quindi quelli rappresentano punti di equilibrio al di fuori di quelle curve i punti rappresentano un'unica fase un'unica fase voi vi chiederete ma allora che cosa succede all'acqua per esempio se si trova solo nella fase liquida quindi è caratterizzata da un punto da una coppia di valori di pressione e di temperatura che fanno sì che lei si trovi solo nella regione dove è presente solo il liquido posso avere un'acqua di quel genere lì nelle nostre condizioni normali l'acqua è sempre in presenza del suo vapore quindi in condizioni normali qui la vita sulla superficie terrestre fa sì che noi in realtà ci troviamo sempre in uno dei punti che sta sulla curva blu ok difficile trovarsi in un punto che sta solo nell'area che corrisponde alla fase liquida questo è per una ragione molto semplice quando il sistema si trova in una in una di queste aree per esempio nella fase solo la fase liquida solo la fase vapore solo la fase solida non è in equilibrio quindi il sistema lo faremo in termodinamica in genere tende a raggiungere uno stato di equilibrio tende a raggiungere uno stato di equilibrio quindi sulla superficie terrestre è difficile osservare una fase un un campione d'acqua che è solo liquida o un campione d'acqua che è solo solida però a temperature molto basse voi sapete che si può avere semplicemente solamente ghiaccio ma bisogna andare a temperature molto basse quindi sulla superficie terrestre queste condizioni non si realizzano in generale non si realizzano anche al polo nord i ghiacci del polo nord sono in equilibrio con il loro vapore più facile invece capire è che comunque si può giungere a un punto dove l'acqua compare solo nella fase gassosa vedete oltre la temperatura critica benissimo quindi ho cercato di chiarirvi che il significato fisico dei punti che stanno lungo le curve andiamo ecco qui vi ho ripulito il diagramma precedente per farvi vedere com'è il diagramma di stato dell'acqua la figura precedente era in realtà la sovrapposizione di due tipi di diagrammi dell'acqua e di un liquido generico era solo per farvi vedere la differenza che esiste fra un liquido generico per esempio alcol o che so io qualunque altro tipo di liquido e l'acqua c'è una notevole differenza vedete il ramo della curva in verde che corrisponde all'equilibrio solido liquido è completamente differente per gli altri liquidi rispetto all'acqua per l'acqua ha un andamento quasi rettilineo mentre per gli altri liquidi è una curva più complessa tornando all'acqua liquida qui si vede ancora bene meglio che differenza esiste fra l'acqua e gli altri liquidi per gli altri rami di curva torno indietro vedete che il comportamento è più o meno simile ma per quello che riguarda l'equilibrio fase solida fase liquida l'acqua ha un comportamento unico ecco perché vi ho fatto vedere subito un diagramma dove ho sovrapposto il diagramma di stato dell'acqua a quello di un liquido generico di un liquido generico è utile spendere due parole sull'acqua per dire per spiegare questo strano comportamento in realtà la spiegazione ce l'avete già quando abbiamo fatto il legame a idrogeno abbiamo visto la struttura dell'acqua solida l'acqua solida abbiamo detto proprio per l'esistenza del legame a idrogeno ha una densità inferiore a quella del liquido quindi l'acqua liquida è più densa rispetto all'acqua solida ecco perché la retta il ramo di curva che contiene i punti di equilibrio fra l'acqua solida e l'acqua liquida ha una pendenza negativa ha una pendenza negativa non può essere altro che così perché perché è evidente e guardate che cosa succede se io aumento se io mi trovo nella fase gassosa quindi diciamo sono nell'area che corrisponde solamente all'acqua gassosa se io aumento la pressione che cosa succede parto da un punto qua vado su aumento la pressione vedete che l'aumento di pressione favorisce la transizione dalla fase gassosa alla fase liquida salite 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 nel diagramma e trovate che un aumento di pressione favorisce la fase liquida quindi se io prendo il gas acqua e lo comprimo prima o poi vedrò comparire del liquido facciamo la stessa cosa invece al di sotto del punto 0.01 gradi centigradi allora che cosa faccio aumento la pressione sono in fase gassosa siccome la temperatura è piuttosto bassa se continuo ad aumentare la pressione passo nella fase solida benissimo ci sta l'aumento di pressione in genere favorisce la fase solida ma se io continuo ad aumentare la pressione che cosa succede vado su sono sempre nei dintorni di 0.01 notate che la pendenza del ramo B è negativo quindi vedete che pende sempre di più vedete che a un certo punto passo di nuovo nella fase passo nella fase liquida quindi un aumento di pressione nel caso dell'acqua quando le temperature sono sufficientemente basse fa sì che l'acqua passi quando le pressioni sono basse si troverà nella fase gassosa aumentando la pressione passerà nella fase solida ma aumentando ulteriormente la pressione passerà nella fase liquida questa è la stranezza dell'acqua l'aumento di pressione favorisce il passaggio dalla fase solida alla fase liquida nel caso dell'acqua proprio perché la pendenza di questa curva è negativa leggermente negativa e quindi tutto si spiega dicendo che siccome l'aumento di pressione favorisce la fase che ha maggiore densità siccome l'acqua liquida è più densa dell'acqua solida è ovvio che continuando ad aumentare la pressione io favorirò la fase più densa cioè l'acqua liquida ecco la stranezza dell'acqua che aumentando la pressione io a certe temperature naturalmente favorirò la transizione dalla fase solida alla fase liquida questa è una caratteristica caratteristica del equilibrio solido liquido questo fenomeno naturalmente è localizzato all'equilibrio solido liquido perché il ramo B rappresenta l'equilibrio fra l'acqua liquida e l'acqua solida quando siamo nella parte gassosa vedete che invece le cose sono normali l'aumento di pressione favorisce la fase più densa che rispetto al gas è la parte liquida perfetto spero di non essere stato troppo confuso tutto deriva dall'esistenza del legame idrogeno ecco questa è una caratteristica dell'acqua alcuni commenti molto veloci ancora il punto di intersezione delle tre curve viene chiamato punto triplo in questo punto coesistono è l'unico punto dove coesistono le tre fasi solida liquida e gas che per l'acqua vedete casca a circa 0,01 gradi centigradi poi alla pressione atmosferica potete identificare il punto di ebollizione perché il punto di ebollizione viene sempre misurato alla pressione atmosferica ricordatevi che durante l'ebollizione la pressione esterna deve rimanere costante se no il liquido non bolle poi vedete che aumentando ancora di più la temperatura si raggiunge un punto C che viene chiamato punto critico cos'è il punto critico? questo è vero per tutti i liquidi il punto critico è quel punto dove non è più possibile qualunque sia la pressione applicata far passare il gas allo stato liquido quindi l'energia delle molecole è talmente alta che non è più possibile formare la fase liquida e quindi il sistema rimane allo stato gasoso in realtà si tratta di uno stato un po' particolare si tratta di un gas estremamente denso quindi ha più le caratteristiche di un fluido anche se non è un fluido normale è un qualcosa che è a metà strada fra un fluido e un gas infatti viene chiamato fluido supercritico però il concetto è quello che vi ho detto abbiamo fornito la temperatura abbiamo innalzato talmente tanto la temperatura che a quel punto le molecole non sono più capaci di dare origine alle fasi consuete alla fase consueta che corrisponde alla fase liquida da origine a una fase un po' più che non è esattamente descrivibile come una fase gassosa ma sicuramente non è una fase liquida normale questo torna indietro un attimo è vero per tutti i liquidi vedete tutti i liquidi hanno un punto critico e oltre il punto critico danno luogo alla formazione del fluido supercritico i fluidi supercritici dal punto di vista chimico fisico hanno proprietà notevoli che però non stiamo qui a discutere perché come al solito in un corso introduttivo ci vorrebbe troppo tempo ecco spero di essere stato abbastanza chiaro è una un veloce una veloce presentazione del concetto di diagramma di stato di una sostanza questo è dell'acqua per confronto vi faccio vedere per esempio il diagramma di stato dell'argon l'argon è un gas monoatomico però vedete che ha un diagramma di stato che assomiglia a quello generale che vi avevo fatto vedere in questa diapositiva vedete le curve assomigliano di più però anche l'argon può essere solidificato può essere liquefatto e naturalmente in condizioni normali noi lo vediamo sempre sotto forma gassosa ma a pressioni opportune lo potete anche solidificare idem lo potete anche liquefare e come vedete il punto C è il punto critico naturalmente gli intervalli P e T in cui queste cose accadono per l'argon sono completamente diverse da quelli dell'acqua per ovvi motivi l'argon è una sostanza completamente diversa però il diagramma di stato ha più o meno la stessa forma e lungo le curve ci sono i punti di equilibrio in generale il sistema tenderà a raggiungere un equilibrio dipende dalle condizioni esterne ma se il sistema è lasciato a se stesso in genere tenderà a raggiungere l'equilibrio uno dei punti dell'equilibrio ci sono diagrammi ancora più complicati e perché si complicano i diagrammi se esistono tante fasi per esempio nel caso del carbonio abbiamo fatto gli stati allotropici del carbonio e abbiamo visto che quelli più comuni sono il diamante e la grafite allora nel diagramma di stato ci dovete mettere anche quelli il diamante è una certa fase solida del carbonio lo è anche la grafite quindi sono due fasi e il diamante può essere convertito in grafite e viceversa quindi ci deve essere una curva che contiene i punti di equilibrio quella che sta indicando tra il diamante e la grafite questi sono punti di equilibrio tra due fasi solide perché nel caso del carbonio esistono più fasi solide voi sapete che in realtà ne esistono ben più di due però questo è un diagramma semplice classico che vi fa vedere i punti di equilibrio fra il diamante e la grafite quindi la grafite e il diamante sono interconvertibili possono cambiare fase e vedete che il diamante guardate il grafico avete sempre il grafico pressione su temperatura vedete che a temperature più o meno ordinarie diamante si forma solo ad altissime pressioni invece a pressioni vicine a quella atmosferica uno eccola qua è favorita allo stato di grafite se voi avete della grafite a pressione atmosferica rimarrà grafite non tenderà perché i punti di equilibrio si trovano a pressioni maggiori invece se aumentate la pressione ecco che arrivate potete far passare la grafite nella fase diamante ovviamente queste due fasi solide saranno nel diagramma compariranno assieme alle classiche fasi liquide e fasi vapore perché la grafite può essere liquefatta bisogna andare molto su con la temperatura ma può essere anche vaporizzata può anche essere vaporizzata quindi questo scusate è un esempio di un grafico più complesso la complessità aumenta quando aumentano il numero di fasi il numero di fasi in particolare di fasi solide se voi pensate parlo ai fisici che abbiamo anche la fase superconduttiva oggi cioè quella fase dove il materiale può condurre la corrente elettrica senza resistenza senza opporre nessuna resistenza in genere queste fasi si formano a basse temperature oggi siamo intorno a siamo arrivati a meno 150 gradi per poter cominciare a vedere la fase superconduttiva è chiaro che quando farete fisica dello stato solido e parlerete di superconduttori all'interno di un diagramma di fase ci dovrà stare anche la fase superconduttiva per dirvi come le cose possono diventare molto più complicate noi naturalmente ci fermiamo qua vediamo non ho altri esempi e spero che sia chiaro quello che interessa a me è semplicemente comunicarvi il concetto di diagramma di stato tutto qua e il significato delle curve che voi vedete sul diagramma di stato sono le curve dove si trova l'equilibrio fra le due fasi è chiaro che si raggiunge l'equilibrio solo se le coppie P e V P e T coincidono con uno dei punti che stanno sulle curve mi sembra che il concetto sia abbastanza semplice il trattamento il trattamento come dire matematico di tutte queste cose naturalmente è più complesso ma noi non lo faremo invece passiamo a questioni ancora più noiose purtroppo le soluzioni se non ci sono domande attendo un attimo no non vedo domande quindi ebollizione evaporazione diagrammi di fase li ho presentati in modo molto qualitativo ma può essere sufficiente non abbiamo molto tempo quindi li ho presentati in modo qualitativo mi interessa solo il concetto e naturalmente se potete ricordare un po' le caratteristiche dell'acqua non fa male perché l'acqua è un liquido notevole dobbiamo parlare di soluzioni perché poi ci servono in termodinamica cos'è una soluzione non vedo domande quindi vado avanti una soluzione è una cosa molto semplice la vedete in questa in questa diapositiva quelle polverine là in alto sono polverine di sali di sali di composti ionici abbiamo fatto i composti ionici no? sono fatti di ioni e questi si sciolgono molto bene in acqua ossia se prendete una polverina e la mettete in acqua il solido scompare e si forma quella che è una soluzione che cos'è una soluzione? una soluzione è una fase dove la specie solida viene completamente sciolta nella fase liquida fino attenzione a quello che dico fino a raggiungere le dimensioni molecolari o ioniche che dir si voglia non si può parlare di soluzione se quello che sciogliete nella fase liquida non si scioglie a tal punto da raggiungere le dimensioni molecolari cioè dentro alla soluzione ci devono essere delle molecole o ioni liberi di muoversi nel volume della soluzione ecco perché sono limpide vedete che sono colorate ma limpide il colore è dato dalle transizioni elettroniche delle molecole ma anche qui il discorso sarebbe lungo però vi faccio osservare che quando fate una soluzione ne avrete sicuramente fatte la soluzione il liquido il liquido deve essere limpido perché vuol dire che quello che avete sciolto il solido che viene chiamato soluto soluto quando entra in contatto con il liquido che viene chiamato solvente l'interazione l'interazione con il liquido è tale che il liquido distrugge il reticolo cristallino del solido e separa le singole molecole se il solido è fatto di molecole oppure separa i singoli ioni se il solido è fatto di ioni per esempio in questa diapositiva tutte quelle polverine sono composte ionici che si sciolgono molto bene non tutti si sciolgono molto bene in acqua quindi il chimico nel laboratorio almeno noi quando facevamo il laboratorio dei primi anni ci divertivamo a fare tutti a ottenere tutti questi colori sciogliendo questi sali ecco il concetto di soluzione una soluzione esiste solo se il soluto viene ridotto dal solvente alle sue dimensioni molecolari ecco il concetto di soluzione se non si raggiunge questo stato non potete chiamarla soluzione in primo luogo vi accorgete che non è una soluzione perché la soluzione sarà opaca non sarà trasparente ma in secondo luogo nel volume del liquido non avrete delle singole molecole ma avrete degli aggregati di molecole che possono avere dimensioni anche maggiori del nanometro addirittura dei micrometri e quindi vi rendono la soluzione opaca per esempio quando guardate del latte il latte è un che cos'è non è una soluzione acquosa nel latte che cosa c'è c'è dell'acqua e ci sono dei lipidi sono delle molecole di grasso molecole organiche di grasso l'acqua non è capace di separare completamente queste molecole e quindi queste molecole formano degli aggregati formano delle goccioline se voi prendete una lente che ingrandisce parecchio e la puntate contro un bicchiere di latte vedete in sospensione delle goccioline microscopiche quelle che cosa sono quelle goccioline acqua no sono goccioline di grasso in sospensione nell'acqua quindi sono leggere e quindi rimangono in sospensione non precipitano sul fondo se fossero più pesanti precipiterebbero sul fondo ma essendo leggere per il principio di Archimede rimangono in sospensione però non sono ridotte alle dimensioni molecolari quindi dovrete parlare di sospensione una bottiglia di latte è una sospensione acquosa mentre una soluzione di cloruro di sodio è il cloruro di sodio sciolto in acqua è una vera e propria soluzione spero che il concetto sia chiaro è molto importante perché se no non ci intendiamo ecco qua la figurina che vi dice di che cosa sto parlando questo è un esempio della dissoluzione del cloruro di sodio che cosa fa l'acqua avete che allo stato solido l'abbiamo fatto il cloruro di sodio è un cristallo ionico avete gli ioni cloro e gli ioni sodio quelli lì più e meno che cosa succede quando buttate tutto in acqua le molecole d'acqua che sono dei dipoli si avvicinano agli ioni e li strappano dal reticolo praticamente in pochissimo tempo distruggono il reticolo cristallino e poi che cosa succede cosa che vi spiega perché gli ioni sono separati l'acqua riduce il cloruro di sodio alle dimensioni ioniche perché perché l'acqua circonda gli ioni crea una specie di sfera di molecole d'acqua attorno agli ioni è chiaro che le molecole d'acqua saranno orientate in due modi differenti se lo ione è positivo o se lo ione è negativo il dipolo acquoso si orienterà in due modi opposti questo è intuitivo ma il risultato sarà sempre lo stesso gli ioni i singoli ioni sono completamente isolati da una specie di guaina di molecole d'acqua questo vuol dire ridurre le dimensioni ioniche o molecolari se al centro ci sta una molecola la cosa è esattamente la stessa cosa per esempio una molecola di zucchero fa la stessa fine anche se è una molecola neutra però è una molecola che interagisce con il dipolo acquoso e quindi in una soluzione di zucchero che voi quando mescolate lo zucchero si scioglie benissimo che cosa succede l'acqua circonda ciascuna molecola di zucchero e quindi di glucosio e quindi il cristallo del glucosio viene distrutto e in soluzione ci sono solo molecole libere semplicemente circondate da molecole d'acqua chiaro questo mi pare che sia semplice guardo se ci sono domande allora via andiamo avanti concentrazione delle soluzioni benissimo stiamo facendo scienza e quindi una volta che mi hai detto che cosa sono le soluzioni ho bisogno di una quantità che mi esprima quanto soluto metto all'interno della soluzione ovviamente se no noi abbiamo sempre bisogno di numeri e allora ci sono moltissimi modi di esprimere il rapporto fra la quantità di soluto sciolto in un certo volume dissolvente e qui la noia è quasi mortale perché avete tutte le possibilità che volete io ne ho elencate solo alcune perché ripeto se ne avete se ne avrete bisogno andatevene a vedere vi elenco le cose più importanti le 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 espressioni della concentrazione queste formule indicano la concentrazione si parla di concentrazione del soluto nella soluzione quindi vi sto facendo vedere alcune formulette che vi danno vi permettono di esprimere di darvi un'idea quantitativa di qual è il rapporto fra il soluto la quantità di soluto e la quantità di solvente nella soluzione allora potete esprimerla in percentuale di volume e lo vedete scritto lì se il volume è chiaro che il volume del soluto vuol dire che il soluto a sua volta è un liquido per esempio una una grappa è una soluzione acquosa di alcol l'alcol l'alcol puro è liquido quindi potete parlare questa percentuale in volume vale solo per soluzioni liquido liquido però quelle più comuni sono solido liquido e allora ecco che avete la percentuale peso volume veramente mi sembra di mi sembrerebbe di annoiarvi a discutere queste formule che mi sembra siano completamente ovvie vedete nel secondo caso ci sono delle convenzioni che quando vengono definite queste formulette si decide se usare se esprimere il volume in millilitri o in litri litri che vuol dire anche decimetri cubi sono pure convenzioni salto invece all'espressione delle concentrazioni più importanti quelle che useremo di più che sono la concentrazione delle soluzioni e come vedete dovreste averlo questo di sicuro lo sapete la molarità è espressa come il numero di moli del soluto sia esso liquido sia esso solido sia esso gas chiaro quindi il soluto può essere qualunque di queste specie non necessariamente solido se avete una soluzione di acido cloridrico quella che usate per pulire i bagni quella è una soluzione di un gas in acqua perché allo stato puro l'acido cloridrico è gassoso quindi voi avete semplicemente sciolto un gas in acqua chiaro quindi attenzione la natura del soluto può essere qualsiasi però la molarità è il rapporto fra il numero di moli del soluto espresso in mol per forza e il volume attenzione notare della soluzione non del soluto della soluzione espresso in litri o decimetri cubi che dir si voglia volume della soluzione adesso faccio un commento per chiarirvi ancora di più bisogna stare molto attenti so io il volume non del solvente ma della soluzione per spiegarvi questa sottigliezza come dire inizione vi introduco la molalità 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 non è la molarità cioè non è la molarità in cinese è una vera e propria unità espressione della concentrazione quindi attenzione molalità lo so è sembra quasi un giochetto linguistico ma è stata definita così e il simbolo è una M minuscola e come vedete la molalità la si calcola facendo il rapporto fra il numero di moli di soluto e siamo come prima però in questo caso il peso del solvente espresso in chilogrammi ok quindi se io prendo un chilo d'acqua e dentro ci metto ci sciolgo non so una mole di zucchero posso calcolarmi la molalità chiaro il concetto? se ho il peso dell'acqua conoscendo la densità dell'acqua voi potreste pensare posso anche calcolarmi la molalità giusto? se io ho il peso un chilogrammo d'acqua sono circa sono un litro perché la densità dell'acqua è uno in condizioni a 25 gradi di condizioni standard ok? lo sapete no? densità dell'acqua è circa 1 per cui se ho un chilogrammo di solvente vuol dire che ho un litro d'acqua bene posso fare numero di moli diviso litro e quindi trovo la molalità la risposta è no quella non sarebbe la molalità perché? perché un litro non sarebbe il volume della soluzione ma sarebbe il volume dell'acqua che avete messo che avete usato cioè l'acqua pura che avete preso quella era un litro ma quando ci mettete dentro il soluto in quasi tutti i casi il volume dell'acqua cambia perché il soluto induce delle interazioni fra le molecole di solvente e le molecole di soluto le abbiamo appena viste e quindi quel volume di acqua pura che era un litro quando ci mettete dentro il solvente non è più un litro e quello è il volume della soluzione il volume della soluzione è il volume del solvente quando ci sta già dentro il soluto che non è mai uguale al volume del liquido puro chiaro? ecco perché è importante sottolineare volume della soluzione spero che sia chiaro questo concetto provo a chiarirvelo ancora di più tecnicamente praticamente che cosa vuol dire questo? vuol dire che se preparate una soluzione molale lo dovete fare con una procedura che è completamente differente da quando volete invece preparare una soluzione molare cosa vuol dire? volete preparare vi interessa solo la molalità non dovete fare altro che prendere un certo peso di solvente puro pesare una certa quantità di soluto e conoscendo poi la massa molare troverete il numero di moli e poi li mescolate agitate sbattete fate quello che volete finché ottenete una soluzione bella limpida questo è il modo per fare una soluzione molale fate questo rapporto e trovate la molalità se non potete seguire questa procedura per fare una soluzione molare perché? perché non avreste nessuna informazione sul volume finale della soluzione e allora come si fa? dovete prendere dovete pesare una certa quantità di soluto da cui poi ricaverete il numero di moli poi sciogliete questa quantità di soluto nella minima quantità di solvente minima cioè quella minima quantità di solvente che vi serve a creare una soluzione limpida poi aggiungete solvente fino a raggiungere il volume che volete a questo punto siete sicuri che il volume finale è proprio quello della soluzione chiaro il concetto quindi praticamente bisogna seguire due procedure diverse spero che questo sia chiaro e che vi chiarisca meglio la differenza fra molalità e molarità la frazione molare invece è banale è un numero che è sempre varia da 0 a 1 perché è d'alto dal rapporto fra il numero di moli di soluto e la somma del numero di moli di soluto più il numero di moli di solvente è chiaro che questa è la frazione molare del soluto potreste divertirvi anche a calcolare la frazione molare del solvente che sarà data dal numero di moli di solvente diviso la somma delle moli del soluto e del solvente si può definire anche la frazione molare del solvente non solo quella del soluto è evidente che data la definizione questa frazione può variare solo da 0 al massimo fino a 1 cioè se c'è solo soluto è chiaro che il numeratore e il denominatore è uguale a 1 se non c'è soluto il numeratore è 0 e quindi va a 0 ecco perché varia da 0 a 1 vado avanti soluzioni ideali vado veloce vado veloce perché sono cose sicuramente noiose vi faccio solo poche proprietà delle soluzioni proprietà fisiche delle soluzioni vediamo se ci sono domande no vado avanti allora pochissime proprietà rilevanti delle soluzioni fisiche perché quelle che interessano ai fisici allora una prima proprietà è naturalmente la prima domanda è chiedersi quando quando metto del soluto dentro un liquido puro che cosa capita alla tensione di vapore del liquido puro che non è più puro perché ci ho messo il soluto questa è una domanda ovvia e la tensione di vapore l'abbiamo appena fatta ecco mi dispiace per chi non conosceva la tensione di vapore adesso subito la uso la sto usando lo so per cui provate un po' a ricordarvi cosa abbiamo appena detto sulla definizione di tensione di vapore è la pressione che si instaura quando la pressione che si misura quando si instaura l'equilibrio liquido vapore in un recipiente chiuso mi raccomando ecco stiamo parlando di quella che cosa succede se nel recipiente ci sbatto dentro anche un soluto ebbene chi ci diede la risposta anche questa facendo degli esperimenti fu il signor Raoult il quale elaborò questa legge che è molto semplice e ci dice che la tensione di vapore di una soluzione del liquido in una soluzione sarà uguale esattamente al prodotto della tensione di vapore del liquido puro P0I per la sua frazione per la frazione molare del soluto scusate per la frazione molare del liquido puro del liquido scusate naturalmente questa formula si applica si applica se sto parlando di soluti non volatili cioè praticamente il contributo alla tensione di vapore proviene solo dal solvente per esempio una soluzione acquosa di cloruro di sodio torniamo al cloruro di sodio siccome il cloruro di sodio è fatto di ioni quelli mica volano non possono andare in fase vapore è impossibile i fisici lo sanno bene che gli ioni non possono salvo nelle condizioni di plasma però nelle condizioni normali mica si comportano da gas quindi se ne stanno in soluzione la tensione di vapore sarà solo dovuta alle molecole d'acqua che passano in fase vapore questa è la situazione che viene descritta come una soluzione che contiene un liquido non volatile scusate un soluto non volatile e avete la legge di Raoult nella sua forma più semplice purtuttavia in generale voi potreste avere delle soluzioni che contengono soluti volatili cioè che possono passare alla fase vapore per esempio ritorno al caso della grappa quella è una soluzione dove avete sciolto in acqua che è un solvente volatile un soluto volatile che è l'alcol quindi entrambi possono passare in fase vapore giusto? non si scappa se il soluto non è volatile la situazione è molto semplice ma se anche il soluto è volatile allora anch'esso contribuisce alla tensione di vapore totale pt la quale sarà per la legge di dalton ovviamente la sommatoria la somma di tutte le pressioni pi che vengono chiamate pressioni parziali quindi la pressione il contributo alla pressione totale del soluto iesimo volatile dell'alcol per esempio è data dalla formula di Raoult dove ripeto pi zero sarebbe la tensione di vapore quando il soluto è puro praticamente è una sostanza pura alcol puro d'accordo? xi invece è la frazione molare dell'alcol quando si trova nella soluzione assieme all'acqua ecco il significato di questo prodotto benissimo se avete un numero n di soluti volatili il contributo alla pressione totale è dato proprio da questa formula mi sembra che spero sia tutto chiaro vi faccio ok quella formula lì è di derivazione della legge di Dalton miscele di gas la pressione totale e la somma delle pressioni parziali bene faccio l'esempio più semplice di una soluzione con due componenti per esempio acqua alcol torniamo all'acqua alcol però potreste fare acqua ettere l'ettere è un altro liquido molto volatile no? qualcuno avrà sentito l'odore dell'ettere bene ammettete di avere una soluzione acqua ettere o acqua alcol benissimo quale sarà la pressione totale? sarà esattamente la somma dei due componenti dove con A potremo indicare l'acqua e con B potremo indicare l'alcol naturalmente la somma delle frazioni molari dei due componenti sarà esattamente uguale a 1 per definizione di frazione molare se riportate in grafico queste espressioni vi trovate un grafichetto di questo genere dove sulle asse dell'Y riportate le tensioni di vapore parziali dei componenti per esempio l'acqua a sinistra e l'alcol a destra e invece lungo la retta lungo la retta che unisce i due assi vedete avete la somma la pressione totale il ragionamento è semplicissimo le linee verdi indicano come varia la tensione le pressioni parziali le tensioni di vapore parziali dei singoli componenti quando avete solo acqua andate sulla sinistra del grafico è chiaro che sarà tutta acqua per cui la frazione molare dell'acqua sarà esattamente uguale a 1 quella dell'alcol sarà perfettamente uguale a 0 quale sarà la tensione di vapore del liquido sarà dovuto solo all'acqua e quindi sarà esattamente uguale alla tensione di vapore dell'acqua pura P0A giusto? benissimo quando cominciate ad aggiungere soluto volatile ossia l'alcol che cosa succede? è chiaro che la frazione molare dell'acqua comincerà a calare mentre comincerà a crescere quella dell'alcol quindi comincerà ad aumentare il contributo della tensione della pressione dovuta all'alcol Pb mentre comincerà a calare il contributo della pressione dovuta all'acqua P.A. le linee verdi vedete? mano a mano che aumentate la concentrazione dell'alcol e diminuite quella dell'acqua si arriverà all'estremo opposto dove avete solo alcol e quindi la frazione molare dell'acqua è 0 e la frazione molare dell'alcol sarà esattamente uguale a 1 la pressione della tensione di vapore sopra il liquido che in questo caso è solo alcol sarà esattamente quella dell'alcol puro i valori sulla linea nera sono esattamente la somma dei punti sulle linee verdi va bene mi sembra che sia un giochetto semplice questo diagramma vediamo se ci sono domande no questo diagramma se spero sia chiaro vale come al solito perché è il destino della scienza nel caso ideale cos'è il caso ideale non si scappa non 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 è che ci che andiamo molto oltre quello che abbiamo detto per i gas una soluzione ideale è quella dove all'interno della soluzione non esistono interazioni in particolare non esistono interazioni fra le molecole di soluto e le molecole di solvente cosa che è paradossale è non vero fin dall'inizio perché vi ho appena spiegato che la soluzione si forma proprio perché il solvente interagisce con il soluto quindi il Raoult fece subito un'approssimazione terribile un'approssimazione veramente drastica per poter scrivere la sua legge ma però insomma come diceva Einstein bisogna sempre mettersi nelle condizioni più favorevoli quelle più pulite lui si metteva a cavallo di un raggio di luce per capire come funzionava la gravità e Raoult si è messo in una soluzione che non può esistere infatti le soluzioni le soluzioni reali si comportano invece in questo modo confrontate il grafico di Raoult sono tutte delle belle rine erette e invece le soluzioni reali sono delle curve che a dir poco spaventano infatti descrivere queste curve è molto ma molto più difficile io mi fermo qua e basta per quello che riguarda una proprietà delle soluzioni ossia la tensione di vapore vi ho dato alcune informazioni sulla tensione di vapore delle soluzioni perché questo perché così possiamo discutere le proprietà collegative e dopo abbiamo finito spero proprietà collegative sono quelle che riguardano invece allora se abbiamo parlato della tensione di vapore vuol dire che stiamo parlando dell'equilibrio liquido gas però ci sono gli equilibri solido liquido e solido gas benissimo quindi ci sono gli altri passaggi di stato passaggio da liquido a solido e da solido a gas che cosa succede a queste cose quando nel liquido ci ho messo dentro il soluto ecco quindi le proprietà collegative quando si parla di proprietà collegative si sta parlando di queste cose cosa succede alle proprietà del liquido e in particolare alle transizioni di fase se io ci metto dentro un soluto ecco qual è la differenza viene indicata qui in questa diapositiva quando avete il liquido puro avete solo molecole di liquido puro fine e quindi le interazioni sono solo quelle quando avete le molecole dissolvente ci saranno interazioni fra le molecole del soluto e le molecole del solvente per esempio una prima previsione la potete subito fare intuitivamente guardando la figura a destra che cosa accade la legge di Raoult che cosa ci dice torniamo indietro perché cosa ci aveva detto se voi la guardate la tensione di vapore quando sciogliete nel liquido un soluto non volatile la tensione di vapore del liquido cala o aumenta chiaramente cala perché x i la frazione molare è un numero che sta fra 0 e 1 per cui la tensione di vapore del liquido quando ci avete messo dentro un soluto non volatile la sto indicando pi sarà minore di pi 0 giusto? la spiegazione la trovate qua vuol dire che quando il recipiente è chiuso naturalmente ci sarà un numero minore il soluto non può volare perché non è volatile però ci sarà un numero inferiore di molecole di solvente che va a finire che va a finire in fase vapore perché la spiegazione molto intuitiva è che la superficie del liquido perché quelle che evaporano sono solo le molecole superficiali sarà in parte occupata anche dalle molecole del soluto le quali non sono volatili e allora statisticamente ci sarà un numero inferiore di molecole di solvente che saranno in grado di passare in fase vapore ecco la giustificazione della legge di Raoult soluto questo vale per un soluto non volatile invece per un soluto volatile avete visto che dovete usare la formula più completa eccole qua le ho ripetute qua vedete questo è il riassunto di quello che vi ho appena detto ve lo lascio un attimo sullo schermo non è altro che quello che vi ho appena detto e andiamo al secondo punto che cosa succede invece al punto di congelamento rispetto al liquido puro l'acqua pura congela a una temperatura più alta uguale o inferiore a quella della soluzione sempre di un soluto non volatile sto parlando di soluti non volatili lo sapete bene perché d'inverno buttano il sale sulla strada perché il punto di congelamento di una soluzione è inferiore a quello del liquido puro per la stessa ragione della la spiegazione è la stessa di quella che abbiamo trovato per la tensione di vapore cioè la presenza del soluto interferisce con le molecole di solvente puro in particolare quando il solvente deve passare allo stato solido cioè deve congelare deve solidificare la presenza delle molecole di soluto interferisce con la formazione del reticolo cristallino conclusione dovete abbassare di più la temperatura per formare il solito mi sembra molto intuitivo e abbastanza noioso stessa cosa per l'ebollizione se la tensione se la tensione di vapore della soluzione si abbassa ecco torniamo ancora a questa figura che è quella centrale di tutto il ragionamento se quando ho una soluzione contenente un soluto non volatile la tensione di vapore del liquido diminuisce perché vi ho detto nella superficie esiste un numero inferiore di molecole di solvente che possono evaporare vuol dire che la tensione di vapore sarà più bassa quindi allo stesso modo la capacità di evaporare è diminuita questo farà sì che anche le molecole che si trovano nel volume della soluzione avranno meno tendenza a passare in fase vapore e quindi l'ebollizione anche qua sarà più difficile quindi per far bollire una soluzione dovete bollire a una temperatura superiore naturalmente non dimenticate mai che quando state facendo quando state facendo bollire un liquido la pressione esterna deve invece rimanere costante deve rimanere costante quindi quando bollite la pasta ci avete messo dentro il sale il punto di ebollizione dell'acqua è leggermente superiore vado via veloce perché questi effetti hanno un impatto per esempio sul diagramma di stato dell'acqua qual è l'impatto che i due rami di curva che descrivono i vari equilibri vedete si abbassano il punto triplo si abbassa scende lungo la curva solido vapore vedete scende perché la tensione di vapore si abbassa e i due rami vedete si spostano il il ramo del che definisce l'equilibrio solido liquido si abbassa a temperature più basse e allo stesso modo il ramo che descrive l'equilibrio liquido vapore perché per esempio la temperatura di ebollizione vedete si abbassa da qua nel liquido puro passa al valore più basso nel diagramma di stato che si riferisce alla soluzione quindi il diagramma più chiaro si riferisce alla soluzione questo è l'effetto sul diagramma di stato dell'acqua dell'aggiunta di un soluto non volatile chiaro? ah giusto ci mancava anche questa ok quindi abbiamo fatto punto di congelamento punto di ebollizione quindi abbiamo visto come variano le proprietà fisiche di un liquido puro quando ci metto dentro un soluto sia esso volatile sia esso non volatile chiaro? quello che abbiamo fatto fino adesso? un'ultima proprietà importante di cui sicuramente bisogna parlare è la cosiddetta pressione osmotica questa serve per chi si occuperà di fisica medica cos'è la pressione osmotica? è una cosa un po' strana un po' complessa che recita in questo modo supponete di avere un tubo AU che separate in due compartimenti attraverso per mezzo di una cosiddetta membrana semipermeabile cos'è questa membrana semipermeabile? è una roba che i chimici sanno fare i materialisti sanno fare e che permette di far noi oggi riusciamo a fare dei filtri molecolari veri e propri cioè sostanze che fanno passare solo certi tipi di molecole cioè abbiamo la capacità di costruire materiali che filtrano singole molecole quindi questa membrana è un è un materiale che riesce a far passare solo le molecole dissolvente per esempio acqua in questo caso ma non quelle di soluto è anche abbastanza facile nel caso di soluti ionici potete anche capire come si fa se la membrana è tale da respingere le particelle cariche è chiaro che il soluto non può passare quindi un po' vi do un'idea di come chi si occupa di questi materiali può trovare il modo di far passare solo un certo tipo di molecola nel caso di soluti carichi è molto facile fare queste membrane per soluti neutri è un po' più complesso ma il principio è sempre lo stesso si sfrutta una proprietà della molecola per non farla passare allora immaginiamo che questa membrana faccia passare solo l'acqua poi che cosa facciamo in un ramo del tubo AU ci lasciamo solo l'acqua pura quella blu nell'altro ci mettiamo un soluto e diciamo un soluto non volatile benissimo che cosa succede dopo che avete aggiunto il soluto succede questa storia qua cioè il ramo che contiene la soluzione il livello dell'acqua si alza il livello della soluzione scusate si innalza mentre magicamente il livello della del liquido puro nell'altro ramo si abbassa quindi vuol dire che è passato passa dell'acqua pura è passata attraverso la membrana ed è andata a infilarsi nel ramo che contiene che contiene la soluzione non ho capito bene questa freccia di flusso che cosa indica questa figura non mi ricordo più da dove l'ho presa ma se per flusso si intende flusso d'acqua è evidente che è al contrario è evidente che è al contrario magari la cancello chiaro quello che succede è un fenomeno molto simpatico da vedere quando lo fate nello stesso bicchiere nello stesso contenitore se se mettete la membrana semipermeabile in modo tale che vi divida il bicchiere il contenitore in due parti e naturalmente deve essere molto aderente alle pareti e riempite le due parti da una parte ci mettete la soluzione dall'altra ci mettete il solvente dopo un po' vedete che mezzo bicchiere è mezzo vuoto e l'altro mezzo bicchiere è mezzo pieno quindi è un è un esperimento molto simpatico da fare ma il concetto è sempre lo stesso ci sarà un passaggio di solvente verso la soluzione verso la soluzione naturalmente il solvente se ne può andare qui le due frecce indicano naturalmente può indifferentemente passare di qua e di là però quando si raggiunge l'equilibrio avrete questa situazione i livelli non sono gli stessi bene cos'è questa figura ah sì cosa si intende per pressione osmotica se voi applicate uno stantuffo lungo il tubo lungo il ramo del tubo AU che contiene la soluzione la pressione che applicate su questo stantuffo per bloccare il flusso d'acqua mi raccomando per bloccare il flusso d'acqua cioè per tenere i due livelli in entrambi i rami del tubo AU uguali cioè per impedire il passaggio dell'acqua bene quella pressione si chiama pressione osmotica quindi è la pressione che dovete imporre sulla superficie della soluzione per impedire il passaggio dell'acqua cioè per permettere ai due livelli di rimanere uguali quella è la tensione di vapore oppure detto in altro modo potete evitare di usare lo stantuffo torniamo al caso no non ce l'ho ecco prendiamola qua invece di usare lo stantuffo si può usare un sistema di questo genere vedete il liquido puro sta nel bicchiere esterno il solvente la soluzione l'avete messa dentro quella specie di non so tubo non so come chiamarlo la membrana semipermeabile separa la base di questo tubo che è in contatto con il solvente è chiaro che il solvente dal bicchiere dal contenitore esterno passerà dentro al tubo e voi vedete nella figura accanto che il livello nel tubo è aumentato è esattamente lo stesso fenomeno di prima però si vede molto meglio con questo sistema ebbene la pressione osmotica non sarà data che altro che la pressione esercitata dalla colonna del solvente nel tubo quindi quando la soluzione risale lungo il tubo è chiaro che creerà una pressione dovuta al peso della colonna di soluzione quella verde ebbene quel peso lì è la pressione osmotica peso per unità di superficie basta il peso di quello è chiamato pressione osmotica chiaro? bene la formula che vedete sotto è la formula della pressione osmotica dove pi greco è la pressione osmotica v è il volume della soluzione n è il numero di moli di soluto r è la costante universale dei gas e t è la temperatura assoluta se dividete nb per ru trovate la concentrazione cioè la molarità e avete la formula della pressione osmotica molto semplice assomiglia alla formula dei gas perché assomiglia alla formula dei gas perché voglio farvi voglio farvi se non siete troppo riusciti ancora a seguirmi voglio dirvi esattamente qual è la natura della pressione osmotica perché in questo esperimento è particolarmente evidente il solvente spinge la soluzione verso l'alto esercitando appunto questa pressione osmotica qual è la natura qual è l'origine di questa pressione da dove viene tutto sommato stiamo parlando di due fasi liquide anche se una è una soluzione però è una fase liquida l'altro è un solvente ed è una fase liquida ma quindi come faccio a capire l'origine di questo fenomeno perché sembra che l'acqua che sta all'esterno del tubo eserciti una pressione sul liquido che sta all'interno del tubo tant'è vero che lo spinge verso l'alto qual è l'origine di questa pressione non è mica una magia se ci riflettete un attimo e i cerchietti in sotto cercano di darvi l'idea di questo fenomeno torniamo alla legge di Raoult ok e io vi chiedo quale sarà la tensione di vapore nel liquido esterno che è solvente puro per esempio acqua sarà esattamente uguale alla tensione di vapore dell'acqua pura e è acqua pura giusto adesso vi chiedo quale sarà la tensione di vapore all'interno del tubo dove ci sta la soluzione quella verde sarà la tensione di vapore della soluzione che contiene il soluto non volatile cosa ci dice la legge di Raoult l'abbiamo fatto prima la legge di Raoult ci dice che la tensione di vapore della soluzione è inferiore alla tensione di vapore del solvente puro torniamo indietro eccola qua eccola qua vedete la tensione di vapore di una soluzione contenente un soluto non volatile è sempre inferiore a quella del liquido puro per la legge di Raoult bene allora qual è l'origine di questa spinta sulla soluzione che spinge la soluzione a salire lungo il tubo è la differenza di tensione è proprio la differenza di tensione di vapore cioè il solvente puro spinge di più perché ha una tensione di vapore più alta tutto qua mentre quella della soluzione è più piccola e quindi spinge di meno non riesce a resistere alla pressione del solvente e in conclusione cosa succederà il liquido il livello del liquido della soluzione all'interno del tubo si innalzerà finché il peso della colonna di soluzione compenserà la spinta la differenza fra le tensioni di vapore è chiaro e quella differenza sarà proprio la pressione osmotica chiaro l'origine del fenomeno è una è dovuto alla differenza e deriva dalla legge di Raoult è dovuta alla differenza fra le tensioni di vapore fra il liquido puro e una soluzione del liquido puro che contiene un soluto non volatile siccome è più bassa l'equilibrio si raggiunge solo quando il la soluzione è salita nel tubo fino a che avrà eserciterà una pressione proprio sulla 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 soluzione sul solvente puro tale da compensare la differenza di pressione osmotica ci dovrebbe essere una domanda quest'ultima cosa dall'inizio quindi quindi di che cosa vi sto parlando sto ripetendo qual è l'origine della pressione osmotica perché se è chiaro questo sistemino sperimentale ma anche gli altri anche nel tubo a u potreste chiedervi perché l'acqua spinge in alto lungo il tubo anche nel tubo a u che cosa succede l'acqua spinge in alto il livello della 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 soluzione contenuta nell'altra parte del tubo a u è chiaro che lo spinge in alto perché riesce a passare dall'altra parte giusto quindi questa spinta è dovuta al fatto che l'acqua passa per la membrana semipermeabile e quindi innalza il livello della soluzione bene perché l'acqua spinge di più e riesce a passare attraverso la membrana da dove gli viene questa forza avevo detto prima tutto sommato ci sono molecole d'acqua anche nella soluzione verde perché queste non riescono hanno meno tendenza a passare dall'altra parte perché non se ne tornano nel liquido puro giusto spero che sia questa la domanda che mi sta facendo da dove deriva questa tendenza dell'acqua ad attraversare la membrana solo per passare nella soluzione e invece la tendenza inversa è molto minore cioè le molecole che stanno d'acqua che stanno nella soluzione hanno meno tendenza a passare nel solvente puro da dove deriva questa differenza di tendenza di queste molecole d'acqua sono sempre molecole d'acqua ebbene la differenza deriva dalla differenza nelle tensioni di vapore che nei valori della tensione di vapore che esiste fra il valore della tensione di vapore del solvente puro e il valore della tensione di vapore del solvente che si trova nella soluzione quando l'acqua è in presenza del soluto sto parlando del liquido rappresentato in verde ebbene la sua tensione di vapore è inferiore a quando l'acqua si trova invece come solvente puro cioè il liquido blu liquido azzurro quindi esiste una pressione maggiore esercitata dalle molecole d'acqua quella che è la tensione di vapore che si trovano nel solvente puro mentre quelle che si trovano nella soluzione spingono di meno perché la tensione di vapore è più piccola quale sarà il risultato che le molecole d'acqua che stanno nel liquido puro avranno una forza maggiore per attraversare la membrana ed entrare nel tubo e innalzare il livello del tubo quindi la spinta che porta le molecole d'acqua dal solvente puro ad attraversare la membrana semipermeabile è una spinta dovuta alla differenza delle tensioni di vapore fra il liquido puro e la soluzione che la legge di Raoult ci dice che la tensione di vapore del liquido puro è sempre maggiore della tensione di vapore della soluzione quindi è una conseguenza della legge di Raoult non c'è niente di misterioso mi dica se è più chiaro era questo che mi aveva chiesto ok più chiaro spero che sia completamente chiaro ok benissimo quindi se qualcuno vi chiede qual è l'origine della pressione osmotica una volta capito che cos'è il fenomeno della pressione osmotica la risposta è dovuto alla differenza fra le tensioni di vapore del liquido puro e della soluzione che la legge di Raoult mi dice che quella del liquido puro è sempre maggiore di quella della soluzione che contiene un soluto non volatile perché se dentro c'è un soluto volatile è chiaro che ma anche lì avete visto però vorrei ricordarvi che anche se dentro c'è un soluto volatile però vedete che la tensione di vapore della soluzione è sempre inferiore a quella del solvente puro se PA0 è l'acqua è chiaro che il solvente che spinge di più in questo caso è quello che ha la tensione di vapore più elevata però se assumiamo che PA0 è l'acqua e PB0 è un soluto volatile ma che ha una tensione di vapore più bassa vedete che l'acqua avrà sempre la tensione di vapore più alta l'acqua pura però questo è sicuramente intuitivo quando il soluto è volatile non è volatile perché il soluto non volatile non ha nessuna tensione di vapore ecco poi spero ecco dopo entriamo in termodinamica allora spero sia sufficientemente chiaro quello che ho detto in particolare ricordatevi l'origine della pressione osmotica è la differenza delle tensioni di vapore fra il liquido puro e il liquido quando si trova in una soluzione che contiene un soluto che o non è volatile o evapora meno di lui ha una tensione di vapore più bassa questa è un riassunto delle formule che descrivono le proprietà colligative riassumendo per proprietà colligative si intendono l'innalzamento ebulioscopico ossia una soluzione bolle a temperature più alte di quelle del liquido puro l'abbassamento crioscopico delta TCR il liquido in una soluzione congela a una temperatura più bassa rispetto al liquido puro eccola qui la formula K CR è una costante adesso vi descrivo le formule e poi abbiamo la formula della pressione osmotica pi greco è uguale M sta per molarità R la costante universale dei gas di la temperatura assoluta vedete che c'è ci ho messo anche un fattore I che prima non avevo messo e compare in tutte e tre le formule adesso vi dico che cos'è K CR è una costante che dipende dal liquido che state studiando perché i dissolventi liquidi ne potete trovare finché volete quindi K dipende dal solvente che state studiando M è la molalità e I è il coefficiente di Van Toff che fra poco vi dico cos'è K è bulloscopico è anche una costante queste costanti si devono misurare sperimentalmente non c'è niente da fare e M è sempre la molalità quindi vedete che i due delta T sono le formule sono simili cos'è I I è chiamato coefficiente di Van Toff che cosa indica se per spiegarvelo torno a questa immagine vedete che qui il soluto e il solvente sono rappresentati come particelle palline questo per dirvi che cosa per dirvi che queste proprietà collegative in realtà non dipendono dalla natura di queste palline parlo in particolare delle palline marroni non dipendono dalla natura del soluto dalla natura chimica del soluto ma semplicemente dal numero di particelle di soluto le proprietà collegative dipendono solo dal numero di particelle che si sciolgono in soluzione è chiaro? di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccomi qua di nuovo. Allora, vi stavo dicendo che... Le innovative dipendono solo dal numero di particelle disciolte nel solvente. Quindi, il fattore I, di che cosa tiene conto? È molto semplice da capire. Prendiamo ancora il caso di NACL, cloruro di sodio. Voi fate una soluzione di cloruro di sodio in acqua. Il cloruro di sodio non è una molecola, è un aggregato di due ioni, sodio più e cloromeno, quindi due particelle. Quando io metto in soluzione una mole di NACL, vuol dire che metto in soluzione, metto nell'acqua, una mole di NAPU è una mole di CL-, di ioni CL- è una mole di ioni NAPU. È giusto? Se io conto il numero totale di palline che ho messo in soluzione, cioè di ioni che ho messo in soluzione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro carica, e mi chiedo qual è il numero totale di ioni? Non è più una mole, ma bensì è esattamente il doppio. Siccome le proprietà collegative non dipendono dal fatto che uno sia sodio più e l'altro sia CL-, ma dipendono solo dal numero di enti elementari che sono presenti in soluzione, quindi di ioni, siano essi positivi, siano essi negativi, allora devo fare la conta del numero totale di ioni. Il numero totale di ioni non è una mole, ma è due moli, perché quando spezzo l'NACL ottengo una mole di NAPU e una mole di CL-. Il totale numero di palline è 1 più 1, cioè 2. I tiene conto di questo fatto, quindi nel caso dell'NACL I sarebbe 2. E' chiaro il concetto? Si chiama coefficiente di Van Toff. Esistono sostanze ioniche che non si spaccano completamente, quindi I può anche assumere dei valori frazionari, ma noi non tratteremo questo caso, non è il caso di rendere la vita difficile a un fisico con queste cose. Mi basta che sappiate che le proprietà collegative dipendono dal numero di particelle e che I tiene conto del modo in cui la molecola o la sostanza che sciogliete nel solvente si rompe quando interagisce con il solvente. E' chiaro che nel caso dei composti ionici, i composti ionici si rompono negli ioni e quindi I tiene conto di quanti ioni si formano da questa scomposizione dello ione. Per esempio, se invece di sciogliere NACL sciogliete cloruro di bario, BACL2 o cloruro di calcio, CACL2, quando il cloruro di calcio, che è un composto ionico, si spacca negli ioni, che cosa produrrà? Uno ione calcio 2+, e due ioni cl- totale tre ioni. Quindi se voi sciogliete una mole di CACL2 in acqua, in totale il numero delle particelle, lì ci mettete tre moli di particelle, perché otterrete una mole dal calcio e due moli dal cloro. Capito il concetto? Quindi nel caso del CACL2, I sarebbe tre. E' un fattore di correzione della molalità per tenere conto della dissociazione di un certo soluto in acqua. In particolare è molto utile per i soluti ioni. per i soluti ionici, cioè i sali, quelli che si scompongono negli ioni. La pressione osmotica, l'abassamento ebulioscopico, l'abbassamento crioscopico, cioè le proprietà colligative, dipendono dal numero di ioni e non dalla natura degli ioni. Guardate che questa è una distinzione fondamentale perché per esempio la pressione osmotica è fondamentale quando voi andate a fare un'infusione di una soluzione di cloruro di sodio in un paziente, nel sangue di un paziente. La soluzione di cloruro di sodio viene chiamata soluzione fisiologica. Quando voi la iniettate nel sangue di un paziente deve avere la stessa pressione osmotica delle cellule del sangue. Se così non fosse, o le cellule scoppiano oppure vengono compresse, quindi fareste un danno al paziente. Quindi è assolutamente importante che uno capisca che la pressione osmotica di una soluzione di cloruro di sodio non è uguale solo a M per R per T, ma bisogna tener conto del fattore I, cioè bisogna tener conto del fatto che il cloruro di sodio si spezza in due ioni. E che quello che conta per la pressione osmotica non è il tipo di ione, ma è il numero totale di ioni. Quindi vedete che dal punto di vista applicativo il fattore I è di assoluta importanza. Se voi fate una soluzione fisiologica e non tenete conto del fattore I, ammazzate il paziente. Fate un danno al paziente. Ci sono domande? Mi sentite tutti ancora? Ci siete tutti? Sì. Bene, ci dovrebbe essere una domanda. Vediamo se la trovo. Ok. Bene, mi ero scollegato un secondo. Spero che... Sì, insomma, è una lezione un po' noiosetta, ma insomma, sono cose che dovrebbero essere abbastanza semplici. Adesso invece, che ho il suono, ormai la lezione sta da... Volge al termine, ma prepariamoci per la termodinamica. però, un momento, la prossima lezione io dovremmo fare anche gli acidi e le basi. conterei di farla in una maniera anche quella abbastanza veloce, ok? In modo che la prossima lezione potremo dedicare la prima parte a completare il discorso degli acidi e delle basi e poi, finalmente, ci dedicheremo la termodinamica. Però, già da adesso, introduciamo il concetto di equilibrio chimico. Ci siamo fino qua? Quindi, messe da parte le proprietà collegative e le proprietà dei liquidi e delle soluzioni, che abbiamo accennato molto velocemente, passiamo, invece, a un concetto estremamente importante, che è quello di equilibrio chimico. Che cosa si intende per equilibrio chimico? Torniamo a una reazione chimica. All'inizio di questo corso, vi ricordate, abbiamo subito parlato di reazioni chimiche. che cos'è una reazione chimica? Abbiamo fatto vari tipi di reazioni, andate alle prime lezioni, e a quel punto avevamo subito chiarito il concetto di trasformazione chimica. Cioè, molecole che si trasformano in altre molecole, specie che si trasformano in altre specie. Benissimo. Qui, per esempio, vi ho riportato ancora il concetto di reazione, di dissociazione, dove una molecola, fatta di due parti, A e B, si spacca in due nuove molecole. Per esempio, la molecola dell'acqua ossigenata, che dà origine a una molecola d'acqua, è una molecola di ossigeno. dal punto di vista dei modelli molecolari, la vedete rappresentata là sotto. Vedete? La molecola di acqua ossigenata è fatta da due atomi di ossigeno legati a due atomi di idrogeno. Questa si può spaccare e trasformarsi in, praticamente, un ossigeno viene fuori, prendete due molecole d'acqua, di acqua ossigenata, togliete un ossigeno da entrambe, con quei due ossigeni ci fate una molecola di ossigeno, e vi rimangono due molecole d'acqua. Quindi la reazione è abbastanza semplice. Questa è la reazione di dissociazione dell'acqua ossigenata. ecco perché l'acqua ossigenata dopo un po' di tempo la dovete buttare via perché in realtà è diventata tutta acqua e l'ossigeno se n'è andato. Il tutto è dovuto a questa reazione che viene chiamata reazione di dissociazione. Va bene, fin qui ci siamo, non abbiamo altro che ripetuto quello che già sapevamo. Qual è il concetto che voglio introdurre qua? Nel caso in cui vi ho detto dell'acqua ossigenata, vi ho detto a un certo punto buttate via il boccettino dell'acqua ossigenata. Perché lo buttate via? Perché il tappo non è un tappo a tenuta, i tappi quelli lì non tengono quasi niente e quindi l'ossigeno può sempre scappare, può sempre andarsene dal boccettino. Invece immaginate di avere una fiala di acqua ossigenata ermeticamente chiusa, tipo le fiale che si usano per le iniezioni, quelle sono chiuse, sono saldate con il vetro. Oppure avete un tappo talmente resistente che è capace di chiudere in modo ermetico il contenitore dell'acqua ossigenata. Immaginate di trovarvi in questa situazione. Che cosa succederà? È chiaro che le molecole di acqua ossigenata a causa di questa reazione cominceranno comunque a dissociarsi, cominceranno a produrre acqua e ossigeno. Però l'ossigeno non potrà andarsene dal sistema. L'ossigeno rimarrà dentro alla fiala. Non si sottrarrà alla reazione. Quello che vi voglio dire allora cos'è? Quello che vi voglio dire è che a un certo punto questa reazione si blocca. Si ferma. Cioè le molecole d'acqua ossigenata che all'inizio quando avevate chiuso il boccettino saldato la fiala avevano iniziato a dissociarsi per dare ossigeno e acqua a un certo punto smetteranno di farlo. E voi vi troverete esattamente nella situazione rappresentata in questa figura. All'inizio quando avete preparato il vostro campione avete solo molecole di acqua ossigenata. Il vostro campione è sigillato all'interno del contenitore per cui cosa vi troverete alla fine? Vi troverete una miscela che contiene acqua, ossigeno dovuti alla decomposizione ma ancora troverete delle molecole di acqua ossigenata. Eccole qua una eccole qua un'altra. Cioè vi troverete una miscela dove avete la presenza contemporanea sia dei prodotti che dei reagenti. La reazione a quel punto si ferma. Si dice che avete raggiunto l'equilibrio chimico. Cosa sia questo equilibrio chimico resta per il momento un mistero. Perché la reazione si ferma? Perché le molecole non continuano a utilizzare questa loro tendenza alla dissociazione? Perché il sistema si blocca? La risposta a una domanda del genere non è facile e richiede comunque una possibile risposta richiede la termodinamica. Ecco perché l'equilibrio chimico è un argomento da termodinamica. L'hanno chiamato equilibrio chimico perché è analogo al tipo di equilibrio che noi abbiamo già discusso nel caso dei gas per esempio. D'accordo? oppure nel caso dell'equilibrio acqua liquido vapore no? Anche nel caso dell'equilibrio liquido vapore vi ho detto a un certo punto l'evaporazione si interrompe. qui è esattamente la stessa cosa un gas a un certo punto smette di espandersi ha raggiunto l'equilibrio l'evaporazione a un certo punto cessa quando la tensione di vapore ha raggiunto un certo valore l'evaporazione ha raggiunto l'equilibrio una reazione chimica avviene ma a un certo punto si interrompe quando raggiunge l'equilibrio chimico quindi questo fenomeno ha tutti i diritti di essere chiamato equilibrio un fenomeno di equilibrio quando una reazione smette di avvenire i reagenti non reagiscono più per formare i prodotti la maggior parte delle reazioni chimiche si comporta in questo modo la stragrande maggioranza delle reazioni chimiche avviene esattamente in questo modo e quindi tutte le reazioni chimiche a un certo punto raggiungono un punto di equilibrio che ha il significato che vi ho detto io adesso ossia si raggiunge l'equilibrio chimico quando la concentrazione dei reagenti e la concentrazione dei prodotti che si sono formati rimangono costanti nel tempo significa che abbiamo raggiunto l'equilibrio chimico chiaro il concetto? in questa rappresentazione quando si è raggiunta una certa concentrazione di molecole d'acqua una certa concentrazione di ossigeno ed è rimasta una certa concentrazione di acqua ossigenata a quel punto il sistema si blocca perché al momento non abbiamo gli strumenti per rispondere come si può rappresentare formalmente una situazione di questo genere la si rappresenta attraverso quella che viene chiamata la costante di equilibrio che è una grandezza sperimentale anche qui riuscire a dedurla è una gara dura l'audio è disturbato? avete problemi con l'audio? no? no quindi qualcuno ha problemi con l'audio ma la maggioranza mi risponde che sta andando tutto bene quindi forse è un problema solo per qualcuno quindi vado avanti perché ormai la lezione è quasi finita concludo questo concetto della costante di equilibrio ecco come faccio a rappresentare questa cosa strana di cui abbiamo appena parlato ossia il fatto che a un certo punto una reazione chimica si spegni non è quantitativa non avviene tutta come avevamo supposto all'inizio vi ricordate che all'inizio quando facevamo la legge di Proust ammettevamo sempre che le reazioni fossero complete si possono rendere complete le reazioni ci sono i metodi per farlo per esempio nel caso dell'acqua ossigenata si sottrae l'ossigeno si apre il boccettino l'ossigeno se ne va e allora vedrete che tutte le molecole di acqua ossigenata alla fine si dissocieranno questo è un modo per rendere quantitativa la reazione ma se voi chiudete chiudete il contenitore se voi chiudete la fiala a un certo punto la reazione si blocca benissimo per rappresentare questo stato gli esperimenti mi mostrano che posso utilizzare quella che viene chiamata la costante di equilibrio Kc che cos'è la costante di equilibrio la costante di equilibrio è data dal rapporto fra le concentrazioni dei prodotti vedete elevati al proprio esponente stechiometrico diviso il prodotto della concentrazione dei reagenti rimasti rimasti all'equilibrio anch'essi elevati all'esponente stechiometrico perché la costante di equilibrio della dissociazione dell'acqua ossigenata è fatta così torniamo alla reazione vedete la reazione bilanciata è quella che è scritta lì il coefficiente stechiometrico davanti all'acqua ossigenata è 2 davanti all'acqua è 2 per cui ecco perché vi trovate un esponente 2 nelle concentrazioni dell'acqua e dell'acqua ossigenata le concentrazioni che sono indicate fra parentesi quadra d'ora in poi quando vedete una parentesi quadra quella indica una concentrazione della specie che è descritta dentro la parentesi quelle sono concentrazioni all'equilibrio non le concentrazioni iniziali quelle che ottenete quando il sistema raggiunge l'equilibrio cioè quelle che corrispondono a questo stato finale dove dentro ci avete tutte e tre le specie quando siete all'equilibrio chiaro? questo rapporto se qualcuno vi dice qual è la concentrazione all'equilibrio dell'acqua dell'ossigeno e dell'acqua ossigenata in questa reazione e voi ci mettete dentro questi valori e fate i calcoli matematici richiesti da questa espressione trovate la costante di equilibrio in realtà la costante di equilibrio viene quasi sempre determinata con metodi indiretti in ogni caso è una misura sperimentale noi non la possiamo dedurre a priori ci sono teorie ci sono moltissime teorie però alla fine il chimico la costante di equilibrio di una reazione chimica se la deve misurare qui questo è un semplice è un semplice modo grafico per dirvi che cosa succede quando si arriva all'equilibrio proprio per questa reazione che cosa indicano queste curve vedete A è l'acqua ossigenata la reazione sopra no? l'acqua ossigenata si è trasformata nei prodotti se voi avete una specie A che si trasforma in una specie B all'inizio avete solo A poi quando la reazione comincia ed A si trasforma in B la concentrazione di A cala mentre la concentrazione di B aumenta quando è che si raggiunge l'equilibrio? quando le due concentrazioni rimangono costanti questo significa questo grafico quando il calo di A si interrompe fino a raggiungere una costanza e l'aumento di B si interrompe fino a raggiungere un valore costante voi dite che avete raggiunto l'equilibrio il rapporto in questo esempio fra la concentrazione all'equilibrio di B elevata alla B diviso la concentrazione all'equilibrio di A elevata alla A sarà la costante di equilibrio per questa reazione generica di A che si trasforma in B è chiaro? questo è un altro esempio di costante di equilibrio vedete in questa reazione quello che si vuole dire questa è un'altra rappresentazione dell'equilibrio a livello microscopico qui stiamo utilizzando le concentrazioni abbiamo preso questa reazione generica dove A si trasforma in B e abbiamo visto che cosa vuol dire dal punto di vista delle concentrazioni raggiungere l'equilibrio vuol dire che la variazione delle concentrazioni di A e B dei reagenti e dei prodotti restano costanti dopo un certo tempo c'è un altro modo di vedere l'equilibrio sempre dal punto di vista microscopico dove invece di considerare le concentrazioni vedete sull'asse Y si mettono le velocità rate in inglese vuol dire velocità le velocità di trasformazione noi non faremo questa parte che si chiama cinetica chimica ma voi potete misurare la velocità con cui A si trasforma in B sarebbe una una parte teorica da fare ma non c'è il tempo come al solito però io vi dico che la cinetica chimica è quella parte della teoria chimica che vi misura le velocità con cui una specie si trasforma in un'altra per esempio le trasformazioni nucleari di un isotopo in un altro sono fanno appunto parte di questo tipo di cinetica quindi voi potete misurare la velocità con cui A si trasforma in B ebbene la teoria microscopica dice che però una volta che B si è formato il principio di reversibilità si chiama principio di micro reversibilità ne discuteremo in abbondanza in termodinamica dice che perché B non potrebbe ritrasformarsi in A se è vera la simmetria rispetto al tempo se A si trasforma in B B potrebbe trasformarsi indietro in A giusto? stiamo parlando a livello microscopico e vi sto dando un'altra interpretazione dell'equilibrio chiaro? quindi è un altro modo di vedere l'equilibrio a livello più fondamentale quindi quando io quando la reazione parte io avrò che A si trasforma in B e lo farà con una certa velocità siccome c'è solo A e non c'è B è evidente che la velocità con cui A si trasforma in B sarà la più grande la massima vedete i rettangoli gialli però appena A comincia a trasformarsi in B la velocità di trasformazione cala perché la teoria di questa velocità dice che la velocità è proporzionale alla concentrazione di A se la concentrazione di A cala perché A si trasforma in B anche la velocità di trasformazione dovrà calare e vedete che qui cala invece B appena A comincia a trasformarsi in B la concentrazione di B aumenterà nel tempo ma se la velocità di trasformazione è proporzionale alla concentrazione all'aumentare della concentrazione di B ecco che la velocità della trasformazione inversa B che va ad A comincerà a diventare importante e avete i quadrati rossi vuol dire che mentre la velocità di trasformazione di A in B cala la velocità di trasformazione di B in A cioè il processo inverso comincia ad aumentare quando è che si raggiunge l'equilibrio? quando le due velocità saranno esattamente uguali a quel punto A si trasforma in B e B si ritrasforma in A alla stessa velocità e quindi la concentrazione di A e B all'equilibrio non cambierà più nel tempo macroscopicamente è come se la reazione si fosse fermata questo è un modo è un modo microscopico di interpretare l'equilibrio che si basa sulla valutazione della velocità di trasformazione si basa più sulle leggi della meccanica che sulle leggi della termodinamica torneremo su questo punto quando faremo la termodinamica quello che per il momento ci basta e concludo è questo data una generica reazione questa reazione procede all'inizio quando ho solo i reagenti A e B procede verso la formazione dei prodotti C e D ma a un certo punto questa trasformazione si arresta quando il sistema raggiunge l'equilibrio vedete e si mette la doppia freccia che è di derivazione dalla rappresentazione che vi ho appena detto questa rappresentazione basata sulla velocità di reazione dice che le due reazioni possono avvenire in entrambi i sensi ecco perché si usa questo simbolismo freccia in avanti e freccia indietro sta ad indicare che se stiamo parlando di una reazione che raggiunge l'equilibrio e questa doppia freccia è ispirata da questa descrizione che vi ho appena fatto basata sulle velocità di reazione chiaro perché si usa la doppia freccia si potrebbe anche usare l'uguale è la stessa cosa ma i chimici preferiscono la doppia freccia bene quando vedete una doppia freccia in una reazione chimica vuol dire che quella è una reazione che va all'equilibrio chiaro se ne vedete solo una vuol dire che quella è una reazione che praticamente è completa questo è il simbolismo bene quando la reazione raggiunge all'equilibrio le concentrazioni dei prodotti C e D che si sono formati fino al raggiungimento dell'equilibrio e le concentrazioni dei reagenti A e B che sono rimasti all'equilibrio soddisfano questa relazione che è una relazione è un rapporto costante ossia il rapporto di questa concentrazione ha un valore costante che io chiamo la costante di equilibrio di quella reazione le parentesi quadre indicano concentrazione per esempio molarità quindi sto parlando di quando vedete le parentesi quadre state parlando di reazioni che avvengono in soluzione in fase liquida ma le reazioni potrebbero avvenire in fase gassosa possono avvenire anche in fase solida ma se avete reazioni fra gas vale la stessa relazione solo che il rapporto è fra le pressioni parziali PC, PD, PA e PB sono le pressioni parziali definite secondo Dalton secondo Dalton vuol dire che dentro al vostro contenitore avete le sostanze tutte in fase gassosa ci sarà una pressione totale che sarà la somma delle pressioni parziali dei costituenti ebbene quelle pressioni parziali sono le pressioni parziali dei prodotti delle pressioni parziali dei reagenti anche loro elevate a un opportuno esponente stanno in un rapporto che è costante quindi io posso parlare di una costante di equilibrio per reazioni in fase liquida oppure e la chiamo KC oppure posso parlare di una KP per reazioni in fase gassosa ma il concetto è esattamente lo stesso è esattamente lo stesso ok vediamo qual è l'effetto dell'esistenza dell'equilibrio l'effetto dell'esistenza dell'equilibrio è importantissimo vi faccio questo esempio e chiudo qua prendiamo questa reazione dove l'azoto reagisce con l'idrogeno per dare ammoniaca la reazione è bilanciata voi partite cosa significa il bilanciamento vuol dire che avete bisogno di una molecola di azoto e di tre molecole di idrogeno per ottenere due molecole di ammoniaca quando raggiungete l'equilibrio vi troverete in una situazione come quella rappresentata nella figura A avrete una miscela che contiene azoto le due palline azzurre idrogeno le due palline bianche ma anche ammoniaca le quattro palline blu e bianche questa è la situazione all'equilibrio cioè avrete che quando il sistema si blocca la reazione si blocca avrete la presenza contemporanea di molecole di ammoniaca di molecole di idrogeno residuo e di molecole di azoto residuo qual è il vantaggio di la costante di equilibrio in questo caso sono reazioni in fase gassosa quindi usate la Kp e la vedete scritta lì sotto va bene elevata all'esponente stecchiometrico 3 dunque ecco come al solito c'è l'errore vedete PH2 no lì ci vuole un 3 e non un 2 provvederemo a correggere questo esponente PH2 è in realtà 3 e va bene correggerò anche questa cosa bene quella è la costante di equilibrio che cosa ci dice questa costante ci permette di prevedere qual è l'effetto di una forza esterna sulla reazione chimica per esempio che cosa succede se io aumento la pressione spingo su questo stantuffo e diminuisco il volume in cui si trovano le sostanze in fase gassosa quindi aumento la pressione che cosa succede alla reazione la reazione resta all'equilibrio no perché non può restare all'equilibrio perché adesso i valori delle pressioni di ammoniaca di idrogeno di azoto non soddisfano più questo rapporto il loro rapporto non è più uguale hp non è più costante allora che cosa succederà il sistema rimane così no cercherà di raggiungere ancora l'equilibrio e come potrà fare a raggiungere l'equilibrio riaggiusterà i valori delle pressioni in modo tale che il loro rapporto sarà ancora costante ecco la potenza della costante di equilibrio mi permette di prevedere quale sarà l'effetto di una di una di una forza esterna sull'equilibrio di una perturbazione esterna sull'equilibrio in questo caso che cosa sta succedendo ho aumentato la pressione qual è l'effetto sui sui sulle molecole dei reagenti e dei prodotti l'aumento di pressione diminuisce il volume e allora che cosa succederà se le pressioni aumentano quindi non soddisfano più la costante di equilibrio si devono riaggiustare in particolare le pressioni dovranno diminuire d'accordo quindi le pressioni siccome il volume diminuisce il volume diminuisce le pressioni dei singoli componenti tenderanno ad aumentare il sistema si muoverà verso quella parte della reazione quel senso quel verso della reazione che tende a far sì che la pressione ridiminuisca perché la 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 forza esterna l'ha aumentata come si fa a diminuire la pressione interna a far diminuire di nuovo la pressione interna il ragionamento è semplice quando io ho l'azoto e l'idrogeno io ho quattro molecole in tutto d'accordo? io ho una molecola di azoto e tre di idrogeno nel mio sistema quindi per fare avvenire la reazione io devo sempre mescolare una mole di azoto e tre moli di idrogeno per ottenere due moli quindi da quattro moli iniziali io me ne ritrovo due è chiaro che se io trasformo un sistema che contiene quattro moli di molecole in un sistema che ne contiene due moli la pressione tenderà a diminuire è vero? perché è come se la reazione mi facesse sparire due moli giusto? sto parlando delle molecole componenti il gas allora qual è la previsione? siccome per ritornare all'equilibrio le pressioni devono tornare a diminuire perché io le ho aumentate forzatamente applicando una forza esterna per poter diminuire la pressione interna l'equilibrio si sposterà dalla parte dove si formano meno molecole cioè produrrà più ammoniaca un aumento di pressione su questa reazione farà sì che si produrrà più ammoniaca e si consumerà più azoto e più idrogeno ecco un esempio di che cosa serve la costante di equilibrio serve a prevedere come si muove la reazione quando viene applicata una perturbazione esterna la reazione si muoverà sempre in modo da ristabilire l'equilibrio cioè da far sì che questo rapporto sia di nuovo soddisfatto questa legge viene chiamata legge dell'azione di massa o anche principio di le chatelier ma come vedete ha una base logica vabbè adesso sono andato un po' forte perché sto sporando il tempo e quindi concluderei magari la prossima volta se sono dei dubbi ne riparliamo ecco questo è l'ultima informazione importante la costante di equilibrio dipende solo dalla temperatura lo dimostreremo in termodinamica però adesso tenetelo a mente la costante di equilibrio di una reazione chimica può solo variare con la temperatura non varia con la concentrazione non fatevi ingannare da questa formula che sembra che la costante di equilibrio dipenda dalle concentrazioni o dalle pressioni parziali kc e kp no non è vero vi farò vedere che in realtà la costante è un numero adimensionale dovremo fare la termodinamica k è un numero adimensionale e quindi dipende solo dalla temperatura io credo che per oggi veramente abbia esagerato per cui se non ci sono domande ci vediamo la prossima settimana scusate ci sono varie domande ah sì quindi era solo un vostro collega che aveva una connessione che non andava bene mi dispiace speriamo che riesca a recuperare la registrazione ecco io non ho nulla più da aggiungere per oggi se non ci sono domande vi ringrazio come sempre e vi ci vediamo ci sentiamo la prossima settimana perché domani è festa naturalmente chiudo la registrazione qua eccola qua a Grazie.